il titolo amare la pace punto vivere in pace punto creare la pace avrei potuto scrivere semplicemente essere in pace ma per essere in pace bisogna muoversi su questi tre livelli bisogna amare la pace amare la pace gli antichi romani giocavano un po con le parole se vi spaccia un parabello traduzione dal latino se vuoi la pace prepara la guerra armati allora cosa succede nel mondo è che le nazioni più grandi si preparano a una guerra ipotetica che poi avviene ma i confinanti anche perché dicono se poi questi invadono poi uno poteva dire ma come fai a pensare a negativo che invadono invece invadono io sono nato nel 1946 dopo cinque anni di guerra chiamata mondiale internazionale con decine e decine forse centinaia di milioni di morti e milioni e milioni e milioni di feriti feriti tant'è che sugli autobus sui treni c'era scritto almeno per un 10 15 anni fino al 16 ricordo posto vicino a dove si saliva riservato agli invalidi di guerra a milano abitavo in una casa dove al quinto piano al quarto piano c'era l'ascensore c'era un invalido di guerra ma della prima guerra mondiale cioè negli anni nel 50 60 c'era uno che era invalido dalla prima guerra mondiale vecchio con le stampelle allora qui la guerra la guerra la guerra io sono nato nel dopoguerra ma poi c'è sempre stata la guerra ho sentito che c'era negli anni 50 la guerra in corea negli anni 60 è iniziata la guerra nel vietnam per non parlare di tante piccole guerre non so se sapete c'è stata una guerra breve ma con tanti morti inutili tra inghilterra e argentina per delle isole che sono davanti all'argentina che gli inglesi dicono che sono loro sono lontanissime per motivi militari c'è stata una guerra c'è stata una guerra tra Iran e Iraq con un milano di morti guerra inutile c'è stata la guerra contro Saddam Hussein la guerra contro i talebani milioni di morti inutili mentre parlo c'è una guerra in corso chiaro un'invasione che ha scatenato le difese ma tra Russia e Russia guerra io non ricordo è 11 anni che c'è una guerra nello Yemen dimenticata perché lo Yemen è lontano molti non sanno neanche dove e tutte le piccole guerre che ci sono state le guerre coloniali dal 1945 quindi finita la seconda guerra inizia la pace no pare che i belgi hanno ucciso 10 milioni di persone in Africa gli inglesi hanno ucciso troppe persone in Kenya tante guerre in Ruanda con milioni di morti Somalia sempre guerra come mai no perché è chiaro che a parole tutti tutti no a parole molti dicono ah io voglio la pace allora amare la pace vuol dire amare uno stile di vita la pace sul pianeta dovrebbe esistere per gli esseri umani e anche per gli altri esseri viventi che hanno forme diverse da quelle umane lo dico lo ripeto quindi a tavola bisogna amare la pace nel piatto amare poi vivere la pace chi si arrabbia non è in pace chi è aggressivo violento pensa male non è in pace poi ho messo al terzo posto creare la pace in ogni azione di messaggio parole ci sono persone che se guardi i loro comportamenti sono meno intelligenti di altre allora quello che ha un po' più di capacità deve andare incontro capire in modo pacifico nelle scuole non c'è pace c'è il bullismo ogni cinque minuti diamo anche 10 va statistica ogni cinque minuti una coppia si separa nelle famiglie si litiga le molestie sessuali sono nelle famiglie nei parenti troppe donne vengono uccise dai compagni e dai ex compagni nei famiglie musulmani sono state delle ragazze uccise perché volevano vivere all'occidentale ma dove sono? nell'occidente quindi per cosa c'è di male a vivere all'occidentale quindi la pace è uno stile di vita che non è solo fermiamo l'armistizio, fermiamo la tregua cessare il fuoco ecco che sta parola sta il fuoco cessare di uccidere perché cessare il fuoco sembra che ti vuoi raffreddare cessare di uccidere le religioni hanno responsabilità perché i capi religiosi non dicono non uccidere smetti di uccidere, non prendere le armi è tutto un gioco di parole dove molti capi religiosi sostengono a parole di essere fautori della pace, marcia della pace poi c'è chi intende la pace in un modo, c'è chi la intende in un altro, c'è chi dice che è colpa di questo è uno stile di vita che tu, io, possiamo creare, per quello creare la pace solo nel nostro raggio d'azione possiamo creare la pace dove abitiamo possiamo creare la pace dove lavoriamo possiamo creare la pace quando andiamo a fare la spesa scegliendo i prodotti giusti possiamo fare la pace capendo in quale banca abbiamo messo qualche risparmio quella è la pace la vera pace non c'è un'altra pace non c'è quindi tu hai il potere di vivere in pace come? amando la pace vivi in pace vivendo in pace crei la pace perché la pace è come la pulizia non è che se ti lavi una volta ogni tanto la pace va creata costantemente nel modo di pensare, di vestire, di parlare chi si veste di pelle non fa vivere in pace gli animali bisogna creare proprio uno stile di vita pacifico pacifico, 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 pacifico ci vuole intelligenza, amore, conoscenza, vigilanza, attenzione quello che fai, è pace? la rabbia non è pace pensare male non è pace avere l'aspettativa che la società pensi a te non è pace non è pace bisognerebbe perché in guerra si muore ma si muore anche al pronto soccorso dove l'ambulanza mette la sirena per portarti in poco tempo al pronto soccorso poi una volta là devi aspettare ore perché? perché non c'è il personale ma quanto costa un aereo, un cano armato, tutta l'esercitazione militare? ci vuole un nuovo stile di vita umano, umano quindi tu, se tu hai un potere politico, usalo se non hai un potere politico, crea pace intorno a te pace alimentare, pace sessuale, pace familiare, pace condominiale pace relazionare nel relazionare insomma gli spunti ci sono, le idee ci sono non ci rimane che mettere in pratica io consiglio ogni tanto di ripetere questo perché ripetere questo? per vivere in pace ti amo perché ti amo non è un tentativo di possedere non è un richiamo sessuale è creare pace amore fanno la marcia della pace perché? mi chiedo eh perché hanno paura di scrivere marcia della pace e dell'amore perché senza amore non c'è pace perché se le persone imparano a scriversi e a dirsi ti amo in modo pacifico non possessivo non possessivo ma pacifico cambia quindi la base della pace è l'amore e la conoscenza capire ma quello che sto pensando facendo sta disturbando qualcuno quindi la regola è evita di creare dolore e sofferenza a te perché poi dopo gli altri devono prendersi cura di te e agli altri quindi scegli ripeti io evito di causare dolore e sofferenza a me stesso e le altre entità viventi questo è una buona partenza per amare la pace vivere in pace creare la pace e finalmente essere in pace